Buongiorno, come ha introdotto l'intervento che mi ha preceduto, questa breve chiacchierata riguarderà una passeggiata tra i valori culturali e ambientali e cenni di architettura e tecnica riguardo i sistemi di copertura storici. A questi volutamente è affiancato il termine loro modificazioni perché come abbiamo potuto osservare nelle molte immagini proposte non è possibile prescindere anche dalla corretta interpretazione e lettura delle modificazioni che nel tempo si sono stratificate sia sui manti che sulle strutture per interpretare correttamente il patrimonio che ci è stato consegnato e quindi intervenire su di esso in modo consonante. Il valore culturale e ambientale dei sistemi di copertura storici che è ormai universalmente riconosciuto ma che purtroppo subisce da tempo delle compromissioni in termini talvolta anche subdoli se vogliamo poiché il manto di copertura è una porzione dell'edificio che richiede nel tempo interventi continui. La cosiddetta ripassatura dei tetti è una consuetudine che purtroppo la forte cesura che c'è stata con l'abbandono dei territori alpini e quindi con questa sorta di abdicazione della civiltà alpina alla cura del proprio patrimonio ha in qualche modo compromesso. Il tema dei sistemi di copertura storici rende necessario in qualche modo effettuare una sorta di scissione in quelli che sono i due componenti costitutivi propri dei sistemi di copertura tradizionali. Funzioni diverse di due parti caratteristiche della copertura ovvero manti e sottotetti che in qualche modo ci permettono di interpretare l'intreccio di problemi che nascono nell'approccio agli interventi conservativi. Ai manti è attribuita la funzione di riparo dalle intemperie e protezione dalle infiltrazioni rispetto tuttavia a degli spazi di sottotetto che tradizionalmente, perlomeno nei contesti geografici ai quali ci riferiamo, non erano adibiti a funzioni residenziali. Quindi l'approccio attuale in generale agli interventi di conservazione, che sono molto spesso anche interventi di recupero perché senza un recupero, una rifunzionalizzazione non è poi possibile attuare una conservazione nel tempo, impone una revisione di queste funzioni. La ricca varietà di soluzioni che in parte l'antologia di immagini che ci è stata presentata nell'intervento precedente ci ha proposto, rende chiaro il fatto che non sia possibile attuare una conservazione rispettando delle prescrizioni, per così dire, preconfezionate. Al contrario, è preferibile riferirsi a delle linee risolutive degli intrecci di problemi, ovvero interpretare, leggere il patrimonio che ci è stato consegnato secondo diverse chiavi, secondo diverse prospettive che devono poi essere tutte contemperate. Questo schema propone come primo tema fondamentale quello della percezione del manto nel contesto di pertinenza. Abbiamo detto, attraverso l'antologia di immagini che ci è stata presentata abbiamo chiaro quale sia il contesto geografico di riferimento, che è un contesto prevalentemente pedemontano e montano, dove quindi la prevalenza di tipologie di manti è rappresentata da manti in lastre di pietra. Da un punto di vista territoriale, il contesto di riferimento del progetto in corso, che ha come caso di studio emblematico quello dei Sacrimonti, comprende quindi una fascia che, da un punto di vista geologico, potremmo dire, ha come filo conduttore quello del sistema assesi a lanzo, che partendo quindi dalle valli dell'Alto Canavese con l'episodio del Sacromonte di Belmonte, ci conduce attraverso i territori del Biellese, la Valsesia, fino al cuore, per così dire, delle valli del Verbano Cusiossola. Queste immagini quindi rappresentano la ricchezza della tessitura dei due tipi di manti prevalenti, che sono, come detto, quelli in lastre di pietra e quelli in elementi di laterizio, o meglio, coppi. Penso valga la pena soffermarsi su questi dettagli, che anche nel caso dei coppi, quindi di elementi preformati e non disponibili in natura, ma tradizionalmente disponibili in un'unica varietà dimensionale e geometrica, riceveva dalla maestria dei contratetto la possibilità di risolvere con estrema efficacia i temi tecnici, i temi funzionali. Quindi è significativo questo displuvio realizzato con un doppio corso di canale, il secondo lo intuiamo, a protezione di luoghi della copertura, punti della copertura particolarmente sensibili all'ammaloramento, perché certamente il displuvio protegge un elemento strutturale portante, fondativo della struttura linea sottostante. e tessitura altrettanto preziosa, altrettanto connotanti, dei manti in lastre di pietra. Queste due immagini ci propongono due contesti molto differenti. Da un lato, in parte già osservato nelle immagini dell'intervento precedente, i tetti visti dall'alto in un contesto solano, quindi con geometrie a forte inclinazione e lastre di forte spessore, posate a corsi orizzontali. Il secondo, invece, una tessitura più pertinente rispetto a contesti valdostani, quindi con l'utilizzo di lose, posate a corsi diagonali e ricavate da un materiale che rende disponibili lastre di spessore più ridotto e geometria pressoché costante. Abbiamo detto però che il caso dei manti in lastre di pietra non è affrontabile, se non con riferimento alla ricca varietà di materiali localmente disponibili, in risposta ai quali si sono poi consolidate nel tempo tecniche efficaci e differenti per restituire manti in grado di assolvere egregiamente alla loro funzione di riparo. L'immagine a colore ci restituisce però l'avanzare di un lento percorso di compromissione dell'autenticità di questi contesti con l'utilizzo di lastre analoge, ma di materiali differenti. Differente è il colore che questi materiali assumono con l'intervento appena realizzato, ma differente, come possiamo vedere, è anche l'alterazione cromatica che materiali differenti acquisiscono nel tempo. Quindi per esempio quasi in primo piano con queste colature dovute probabilmente ad una presenza di ossidi, dei quali non è altrettanto ricco il litotipo locale. Volutamente si è introdotta questa immagine che deriva dal contesto valdostano perché il contesto valdostano è un ambito territoriale che per primo a livello italiano ha cercato di introdurre un percorso virtuoso per il recupero e la conservazione dei manti tradizionali in lastre di pietra, corredando disposti normativi che si affiancavano anche a agevolezioni per il recupero appunto di coperture utilizzando materiale lapideo, prescrizioni puntuali circa la rispondenza per esempio alla marcatura CE, quindi la garanzia di durata delle lastre. Ecco, questo eccesso se vogliamo di zero dal punto di vista della prescrizione tecnica, della prestazione che il materiale deve avere, ha in qualche modo superato la possibilità di mantenere la sensibilità all'utilizzo di materiali locali. Materiali locali che storicamente utilizzati in lastre da tetto hanno caratteristiche, origini e lavorabilità molto differenti tra loro. Queste immagini ci parlano di materiali che variano dai calciscisti ai serpentinoscisti agli cnais che hanno colorazioni differenti in termini estremamente superficiali, per un approccio superficiale, ma che hanno anche caratteristiche costitutive differenti, quindi possono restituire lastre di dimensioni e soprattutto di spessore assolutamente differenti tra loro. È necessario anche in qualche modo sottolineare come la conservazione delle coperture storiche che attraverso l'utilizzo di materiale locale non sia o sia molto raramente una via perseguibile. Il caso specifico dei Sacrimonti, come avremo occasione di ascoltare più diffusamente dall'intervento della dottoressa De Filippis, è un caso emblematico e virtuoso in cui il valore riconosciuto degli episodi dei Sacrimonti permettono di reperire materiale locale di reimpiego affinché si mantenga nel tempo la consonanza degli interventi di reintegrazione. In contesti territoriali più ordinari, se così li vogliamo chiamare, questo non sempre è possibile perché il materiale tegulare in lastre di pietra utilizzato per le coperture è molto spesso un materiale di minore qualità. Il materiale di buona qualità, i blocchi di buona qualità erano utili per le strutture in elevazione, per i tetti si utilizzavano materiali locali molto spesso neppure derivanti da veri e propri siti estrattivi ma da trovanti o dalle cosiddette losere. Non a caso il territorio alpino, soprattutto nella parte occidentale, è punteggiato da toponimi losere, loserai, ovvero depositi detritici di falda dal piede dei quali venivano prelevate lastre poi utilizzate per la copertura dei tetti. Quindi caratteristiche, origini e lavorabilità di materiali molto diversi tra loro. Le categorizzazioni non sono mai esaustive ma sono funzionali a semplificare la trattazione, quindi possiamo in qualche modo riconoscere almeno due grandi gruppi di materiali, di litotipi che originano lastre di tipo differenti. Lastre tegulari a spacco naturale da lavorazione di litotipi caratterizzati da un'elevata scistosità e questo è comunque un carattere comune a tutti i materiali impiegati storicamente in lastre da tetto, ovvero materiali che si caratterizzano per una distribuzione in letti paralleli o subparalleli dei cristalli di minerali separati da sottili strati micacei che quindi rendevano possibile lo spacco, appunto la separazione dei letti di deposito e quindi ottenere queste lastre. Il sistema sesialanzo che in qualche modo collochiamo soprattutto nel territorio delle valli canavesane di pertinenza del Sacromonte di Belmonte restituisce calcescisti, micascisti, serpentinoscisti. Quindi le lastre che si ottengono sono in genere lastre molto fragili, di ridotto spessore e con elevata variabilità geometrica. Anche le tonalità che possiamo osservare variano dal grigio chiaro, azzurrognolo all'aranciato. Ecco questi sono alcuni manti appunto della zona dell'Alto Canavese. Vediamo in alto un manto realizzato in lastre di calcescisto, in basso un manto in serpentinoscisti. Quello che possiamo osservare è proprio questa elevata variabilità nella dimensione, nella geometria delle lastre e quindi ciò che accomuna questo tipo di manto, ma è curioso osservare che, o forse insomma è solo una conferma, osservare che tessiture analoghe sono presenti anche in contesti europei molto distanti da noi, per esempio nel nord della Norvegia, l'utilizzo delle lastre in relazione alla loro funzione. Quindi le lastre di maggiore dimensione e di dimensioni più regolari sono generalmente posate in corrispondenza della gronda, proprio perché queste lastre devono proteggere dall'infiltrazione non solo dell'acqua battente, ma anche dell'acqua di ruscellamento, cioè di tutta l'acqua che ricevono dalla parte superiore della falda. E poi queste dimensioni diminuiscono via via che si raggiunge il colmo, realizzato con sovrapposizione di diversi corsi di piccole lastre, talvolta assicurate nella loro resistenza alla dislocazione provocata soprattutto dalla presenza di neve e dall'azione del vento, da elementi di piccole dimensioni ma di peso consistente. A lato vediamo una cappellina del Sacromonte di Belmonte, una delle poche che in realtà che conservano una tessitura del manto in sottili lastre di pietra. Vediamo che è già però in qualche modo un ibrido con l'utilizzo degli elementi in cotto più diffusi per la soluzione degli elementi di spluvio. Localmente, nel contesto di riferimento, erano presenti attività estrattive anche di specifico interesse per l'estrazione di lastre di serpentino scisti trasportate lungo i sentieri e che caratterizzano tutto il territorio della Valle Orco, in particolare nel contesto del comune di Locana. Quella in alto è una fotografia che illustra la cava del cosiddetta del Der Bianco, dal nome del toponimo locale. Questa cava è stata attiva fino agli anni Sessanta, poi abbandonata non tanto perché il filone fosse esaurito quanto per la disposizione del fronte di cava. Questo è un altro aspetto importante, soprattutto nel campo dei materiali, diciamo, degli affioramenti di scisti. C'è la disposizione a reggipoggio, a franapoggio dei letti di disposizione preferenziale, nel tempo pregiudica la possibilità di mantenere la coltivazione della cava. In basso, una fotografia del contesto dello stesso comune di Locana, quindi in qualche modo nella piccola Valle Orco il luogo di produzione delle lastre da tetto, dove in qualche modo come conseguenza neanche troppo velatamente citata dell'esito dell'applicazione di disposti normativi nella Valle d'Aosta, da alcuni anni una norma locale prevede la possibilità di sostituzione del manto preesistente in lastre con manti di materiali differenti. Vediamo quindi come il paesaggio inizia a essere punteggiato da elementi estranei, talvolta in cotto, quindi in tegole, più raramente in coppi e molto spesso in tegole di cemento. La seconda grande famiglia, se così vogliamo dire, di lastre tegulari impiegate nei territori di riferimento, sono invece lastre ricavate dalla lavorazione a spacco naturale lungo i letti a spiccata scistosità, però di blocchi di pietra da taglio. Si tratta in questo caso di lastre di medio spessore o elevato spessore, quando poi saremo nel contesto solano, spessore che generalmente è costante e che corrisponde a materiale con litotipi di gnais occhiadini e ortognais. I manti realizzati con questo tipo di lastre sono manti che hanno in genere una disposizione mista. Vediamo ancora permanere un utilizzo di lastre di dimensioni differenti per la soluzione della porzione di gronda, ma già con un'alternanza di elementi di dimensione maggiore e di forma pseudo-rettangolare con elementi indicati nello schema illustrato come A necessari per la protezione del giunto laterale. Questa fotografia in alto ci ripropone accorgimenti che fanno parte della cultura costruttiva con l'avanzamento di queste lastre rispetto al filo delle lastre di gronda, diciamo, del primo corso, proprio per far sì che la goccia d'acqua si stacchi dalla copertura senza tornare, diciamo, sul paramento murario. Questi dettagli apparentemente banali, che hanno sicuramente una radice tecnica fondativa, sono poi quegli elementi che in modo particolare connotano la linea del profilo delle coperture, soprattutto quando queste sono percepite dal basso. Quindi qui in qualche modo iniziamo ad introdurre tutti gli elementi, quindi l'intreccio di elementi, l'intreccio di osservazioni che è necessario condurre affinché l'intervento sia un intervento che mantenga la propria autenticità, perché questo penso sia un elemento fondamentale. L'autenticità di ogni soluzione che noi molto spesso erroneamente interpretiamo come soluzione con valenza estetica ha nell'architettura tradizionale sempre un legame fortissimo con la funzione alla quale quell'elemento singolo, quella singola lastra, era deputato. È opportuno citare manti in lastre regolari di medio spessore a disposizione regolare che, a differenza di quelli illustrati nella slide precedente, veniamo prevalentemente comparire in ambito urbano, quindi su edifici che hanno funzioni generalmente più, come dire, più auliche, edifici religiosi, diciamo palazzi di una certa importanza e questo anche connaturato alla necessità di trasporto a valle del materiale e quindi in qualche modo risponde sia ad una necessità di trasporto del materiale utile, quindi riducendo poi in loco molto spesso la lavorazione che invece è necessaria per adattare, nel caso di manti a disposizione mista, la singola lastra alla propria funzione. Qui sono illustrati schematicamente due differenti sistemi, entrambi a lastre pseudoquadrate, ma in un caso con l'angolo laterale scantonato, nel caso invece in basso senza, diciamo, la lavorazione che priva di questo vertice, dei vertici laterali, la singola lastra. Questo comporta una maggiore complessità nel tracciamento della falda e una maggiore morbidezza, se così vogliamo dire, della tessitura che viene restituita, così come un appoggio non perfettamente simmetrico, potremmo dire, delle singole lastre. Quindi questi piccoli accenni per introdurre alla complessità e alla padronanza che le maestranze sicuramente dovevano avere e dovrebbero ancora possedere nella posa di questi manti. arriviamo al contesto ossolano, delle valli, insomma, del verbano così ossola, dove è prevalente l'utilizzo di knais tabulari con particolare riferimento alle cosiddette piode e alle beole, che sono cavate, diciamo, nella zona di Beura e utilizzate da sempre per la copertura di tetti e non solo. Trattandosi di un contesto territoriale che, come abbiamo visto nella presentazione precedente, ha numerosissime valli laterali e quindi declina poi i modi costruttivi in una varietà davvero straordinaria, una sommaria, ma di nuovo funzionale, classificazione, ci permette di distinguere sostanzialmente tre grandi zone di influenza, insomma, l'alta zona dell'ossola con l'utilizzo prevalente del serizzo, la zona della valle Anzasca e delle zone limitrofe con l'utilizzo prevalente della beola e poi vedete evidenziati alcuni ulteriori siti, per esempio il sito di Rimella, perché poi, insomma, sarà richiamato in quanto sito estrattivo di provenienza di lastre che sappiamo essere state utilizzate nel tempo, anche presso il Sacrimonti e che non è più così, diciamo, così facile poter approvvigionare. Questo schema ci permette di richiamare, perché penso sia comunque consolidato, il principio di funzionamento, se così vogliamo dire, dei manti in lastre di pietra, in lastre tegulari, piane, quindi senza la possibilità di distinguere, come nel caso delle coperture in coppo, quali elementi, in virtù della loro geometria, siano deputati a raccogliere, per così dire, l'acqua e quindi portarla all'esterno della copertura. E' quindi necessario che quella che in altri tipi di coperture è una semplice sovrapposizione di elementi, di corsi differenti, diventi una triplice sovrapposizione, permettendo così che la porzione di lastra esposta del singolo corso abbia al di sotto due ulteriori corsi, si legge bene nella sezione, evitando così che l'eventuale infiltrazione attraverso i giunti laterali del corso, diciamo, del secondo corso, possa essere veicolo di infiltrazione rispetto allo spazio di sottotetto. La sezione illustra uno dei possibili modi di apparecchiare questo tipo di copertura con la distinzione di due tipi di lastre, quindi corsi alternati di lastre di differente dimensione. Questa è una variante presente in alcuni contesti, ma non può essere assunta come rappresentativa di tutto il sistema di copertura assolano, che appunto ottimizza in qualche modo l'utilizzo del materiale e ci fa capire bene la differenza tra le lastre cosiddette a correre, che sono le lastre di sormonto, le lastre A di sormonto rispetto agli elementi dell'orditura, linea di supporto al manto, e gli elementi invece di battuta rispetto agli elementi linei, che sono gli elementi qui indicati con A-M. Questa è una tipologia, come dicevo, che prevede quindi due corsi di lastre ogni corso di tondoni di supporto. Vi sono poi varianti anche con tre corsi di lastre sovrapposte, anche di analogo spessore e soprattutto di analoga dimensione trasversale. Questa mappa introduce in modo sintetico la distribuzione per aree tipologiche omogenee in epoca storica tradizionali nelle valli dell'Ossola, quindi zone di montagna con copertura esclusivamente in pietra, zone di lago dove, come ha detto prima il professor Zerbinatti, c'è la commissione di elementi con copertura, di copertura anche con elementi in coppo e aree, diciamo, miste. C'è poi tutta un'area di insediamento, di influenza Valser, dove quindi si sono consolidati modi di costruire e modi di tessere i manti che in qualche modo rappresentano un ibrido, soprattutto per quanto riguarda, direi, la gestione della struttura linea. Questa, diciamo, suddivisione territoriale ci introduce a un'antologia di immagini percorrendo le quali cercheremo di commentare quali possono essere gli elementi connotanti, l'immagine dei manti tradizionali e quali gli accorgimenti per evitare di incorrere inesiti non coerenti con il contesto. La prima fotografia è emblematica di quanto l'utilizzo di un materiale con forme e dimensioni differenti possa influire sulla percezione del manto. Qui con l'aggravante, se così vogliamo dire, di non aver affidato alla maestria costruttiva alla risoluzione dei displuvi, che abbiamo visto e illustrati bene prima, che sono quindi stati, in qualche modo, a cui è stato sovrapposto un elemento metallico. Sicuramente questo tipo di intervento sarebbe da evitare, per fare ciò però è necessaria davvero una sapienza costruttiva che deve essere in qualche modo recuperata. Le altre due fotografie ci illustrano come, a differenza delle coperture che abbiamo visto in contesti con lastre di ridotto e medio spessore, qui la tessitura del manto sia data da elementi di geometria e dimensioni pressoché regolari, ma è comunque leggibile la peculiarità dell'elemento di gronda. Questi scatti riguardano la copertura di una cappella del Sacromonte di Orta, dove nel tempo si sono dovuti effettuare interventi temporanei di sostituzione di lastre ammalorate. vediamo come, ecco, la copertura di questa cappella è poi quella che sarà oggetto della trattazione più approfondita nell'intervento del pomeriggio, ma in qualche modo questi elementi di sostituzione o la presenza di elementi immateriali estranei sono l'indizio di una non regolare funzione assolta dal manto che quindi ha poi nel tempo portato al deterioramento delle strutture linee sottostanti, richiedendo quindi l'esecuzione di un intervento estremamente più invasivo rispetto alla semplice ripassatura del manto. Queste immagini ci introducono nel contesto delle alte valli dell'Ossola, siamo nel comune di Monte Crestese, l'influenza dal punto di vista del litotipo è quella del Serizzo, la foto centrale ci introduce all'elemento fondamentale, diciamo all'elemento che manca, tra virgolette, nel contesto ossolano per quanto riguarda la struttura linea, ovvero l'assenza appunto del colmo. L'assenza del colmo, la realizzazione dell'orditura di supporto al manto con tondoni di talvolta di dimensioni anche tra loro differenti e l'osservazione di dettaglio di alcuni nodi costruttivi e quindi questa volta l'osservazione da sotto della copertura permette di individuare come molto spesso la presenza di lastre di dimensione maggiore fosse comunque accuratamente disposta in corrispondenza di nodi di particolare rilievo dal punto di vista strutturale, quindi un intreccio sempre estremamente accurato di modi di eseguire che permette la migliore conservazione nel tempo dell'edificio. L'immagine in alto a destra illustra una caratteristica connotante gli edifici isolati di piccole e medie dimensioni caratteristici in ambito montano in questo contesto territoriale, quindi uno sporto molto ridotto della copertura, quindi del manto, sia per quanto riguarda il nodo di gronda realizzato con lastre di grandi dimensioni e di forte spessore sia per quanto riguarda l'elemento di protezione rispetto al prospetto del timpano. Questo di nuovo è un elemento importante nella lettura dell'immagine consolidata dell'architettura locale che molto spesso vede invece introdotti in interventi di recente realizzazione elementi estranei, quindi un maggiore aggetto del manto, la presenza di elementi linei anche all'esterno della copertura, aspetto che veniva accuratamente evitato anche per offrire una migliore protezione e quindi garantire una migliore durabilità dell'orditura di supporto al manto. Questo anche perché la tipologia di manti che stiamo osservando rende sicuramente meno agevole gli interventi locali di sostituzione delle orditure compromesse rispetto ai manti che abbiamo osservato realizzati in l'ose, proprio perché il forte ricoprimento delle singole lastre determinato dal fatto che queste debbano essere posate con un'inclinazione che è molto ridotta, quindi a fronte di un inviluppo della geometria della falda che raggiunge a volte il 100% della pendenza, quindi circa un angolo di 45 gradi, le lastre assumono una pendenza che può essere compresa tra il 5 e l'8%, quindi la stabilità di queste lastre è garantita per gravità e dunque un'elevata sovrapposizione anche per la difficoltà a realizzare degli accorgimenti per il fissaggio puntuale della singola lastra all'orditura di supporto, elementi di fissaggio che invece si possono ritrovare diffusamente utilizzati per le lastre di piccolo e medio spessore, sia per la migliore lavorabilità sia per il ridotto peso della singola lastra che poteva quindi essere trattenuta anche con dispositivi di fissaggio realizzati in inganci metallici. Nello stesso contesto vediamo alcuni tetti a rovegro, non estranei a interventi ad aggiunte che sono però in questo caso di minore gravità, se così vogliamo dire, perché interventi temporanei e evidentemente legati ad un utilizzo di zone di ingresso all'edificio offrendo quindi riparo, ma interventi che in qualche modo hanno limitato la compromissione del manto. Questo manto ha invece un altro elemento sul quale soffermare un attimo la nostra attenzione ed è la presenza di una chiusura del colmo con malta, in questo caso anche malta cementizia. Ecco, questo è un accorgimento che non rientra nel modo di allestire le coperture tradizionali e che evidentemente ne modifica l'aspetto, ma in qualche modo anche il comportamento. Sempre a rovegro, abbiamo già osservato l'immagine di sinistra nel precedente intervento, ma qui è funzionale ad illustrare varietà locali nei modi di allestire le coperture. Quindi se generalmente i timpani che non hanno, non presentano aperture o presentano soltanto feritoie, per così dire, vi è uno sport molto ridotto, l'introduzione di aperture nel prospetto di frontone prevede invece un progressivo avanzare dello sport delle cimose, cioè degli elementi di chiusura laterale del manto. Questo esempio è tra l'altro un esempio in cui la compromissione rispetto alla impostazione originale si legge anche nella presenza del colmo, che in questo caso è necessario proprio per sorreggere la struttura esterna che è stata addossata al frontone. L'immagine in alto a destra ci propone la vista dal basso con queste caratteristiche lastre di grandi dimensioni e forma pseudo-rettangolare, sorretti in questo caso non da tondoni, ma da elementi linei in forma di tavole. Questa è una variante che troviamo soprattutto nel caso di elementi di aggetto per la copertura di loggiati e balconi. La foto d'insieme denuncia questo progressivo avanzare di elementi estranei, quindi coperture come già abbiamo visto in materiali differenti. Siamo ancora nella Valdossola e quindi l'elemento di coronamento della facciata, quindi il cornicione di Gronda che si complessifica, si assume una valenza anche connotante l'immagine di edifici più aulici in questo palazzo con degli elementi litici anche in forma di mensola a supporto dell'elemento di Gronda. Questo impone la necessità di un'attenzione particolare nel nodo di raccordo tra la forte pendenza dello sviluppo della falda e la giacitura pseudo-orizzontale invece della porzione appunto dell'aggetto. Queste fotografie ci portano invece nel comune di Craveggia, significativo per la presenza di numerose e anche importanti dal punto di vista dimensionale teste di camino che punteggiano le coperture e che introducono un tema fondamentale per la tenuta all'acqua dei manti, cioè la risoluzione del nodo di collegamento tra la falda e il camino appunto in elevazione. Questo raccordo che nel caso delle coperture storiche veniva realizzato esclusivamente con l'utilizzo di lastre di pietra raccostate verticalmente alla copertura e quindi abbiamo penso tutti in mente quanto differente sia la valenza invece di nodi critici risolti con le introduzioni di lattonerie, quindi di elementi di faldali che interrompono la continuità del manto e che in qualche modo sono poi veicolo di infiltrazioni forse in maggiore misura rispetto alla corretta soluzione della tradizione. La foto in basso a sinistra illustra numerosi e già osservati in precedenza esempi di compromissione dell'immagine tradizionale dall'inserimento di elementi della struttura linea in esterno all'utilizzo di lastre non provenienti dal tessuto locale, benché con caratteristiche in parte analoghe. Anche l'introduzione di elementi quali abbaini che sono in qualche modo connaturati alle necessità di recuperare funzionalmente gli spazi di sottotetti per nuovi usi, per nuove funzioni dovrebbe il più possibile rispondere al rispetto di quelle geometrie consolidate che sicuramente in questi contesti non prevedevano la presenza di elementi verticali in muratura, ma un raccordo con l'elemento di falda. Sempre in Valleossola questi scatti ci restituiscono l'importanza del nodo di colmo con la realizzazione di giunzioni che traggono dall'esperienza consolidata nell'uso di essenze differenti per la realizzazione dei singoli elementi, quindi chiodi in legno che abbiamo visto anche ricorrere negli elementi puntuali di fissaggio dei tondoni di supporto al manto lapideo realizzati con maggio ciondolo o comunque con essenze linee che sicuramente potevano dare garanzia di durabilità nel tempo. La foto in basso ci illustra invece bene la differenza tra i due corsi di piode, quelle a correre che vengono quindi utilizzate a protezione degli elementi linei dell'orditura secondaria e le lastre invece imbattuta contro tali elementi. Questo ha garanzia di protezione dalla eventuale imbibizione del materiale lineo e quindi dalla marcescenza. Le altre due immagini illustrano bene l'importanza di un elemento che è quello del controvento che troviamo diffusamente in questo tipo di copertura nell'esercitare appunto questa funzione di controventamento tra le diverse incavallature, tra le capriate, ma che molto spesso o talvolta perlomeno nello sviluppo soprattutto delle campate centrali della falda incuriosiscono per la ridotta sezione degli elementi. Questo trovo una spiegazione analoga a quella della presenza di colmi sui quali poi di fatto le capriate paiono non poggiare, ovvero l'utilizzo di saette in posizione contrapposta rispetto al modo di legare al colmo i due elementi di puntone e quindi queste saette che hanno prevalentemente una funzione di guida durante l'esecuzione del manto e che poi rimangono anche nelle porzioni interne della falda ad esercitare una ridotta funzione di controventamento. Con queste immagini siamo invece presso l'edificato di Veglio. osserviamo come gli spazi, abbiamo detto in introduzione, il recupero dei sistemi di copertura storici non può essere inteso solo come recupero del manto, ma deve includere il recupero, un'attenzione quindi agli spazi di sottotetto. è diffusa la presenza di spazi di sottotetto che erano tradizionalmente spazi aperti, coperti, quindi numerosi sono gli interventi che punteggiano ora gli edificati, i borghi, soprattutto in ambito montano, pedemontano, che vedono la chiusura di loggiati o di astic come nella tipica definizione locale. Pur non essendo parte del manto, sicuramente questi interventi in qualche modo interferiscono con la percezione degli spazi di sottotetto e quindi in qualche modo con la percezione e l'immagine dei sistemi di copertura storici. Quindi in questo caso accorgimenti come l'arretramento delle nuove chiusure verticali o l'adozione di particolari tipi di materiale possono in qualche modo contemperare meglio la risposta alle diverse esigenze, quella di conservazione dell'immagine e quella di soluzioni di esigenze funzionali correnti. Compromesso che però non deve essere sempre in qualche modo sbilanciato rispetto alla prevalenza delle esigenze funzionali, quindi sarebbe culturalmente corretto immaginare di mantenere almeno parzialmente questi spazi come spazi fruibili soltanto durante una stagionalità che ne fa apprezzare l'essere spazi aperti e coperti. Del resto molto spesso vediamo interventi che pur compromettendo la funzione originaria sono del resto interventi che hanno la funzione di restituire all'uso abitativo edifici soltanto utilizzati in periodi estivi o comunque nelle belle stagioni, quindi molto spesso sarebbe necessario un ritorno a un uso più compatibile degli spazi e non solo a una cura dell'immagine esteriore degli edifici. Con queste immagini siamo tra la Valle Osso e la Valle Vigezzo. Vediamo nell'immagine in alto a sinistra un esempio di questi spazi di sottotetto aperti mentre l'immagine di destra ci introduce a un tema trasversale comunque importante nell'approccio alla conservazione dei manti tradizionali, ovvero la differente natura di alterazione cromatica o in questo caso di patina biologica che è conseguente all'utilizzo di materiali differenti. Ancora in Val Vigezzo questa immagine ci permette di osservare numerosi degli interventi poco consonanti che abbiamo già in parte illustrato e che in parte sono stati introdotti dal precedente intervento. Dalla introduzione di elementi di gronda non così coerenti con il contesto alla soluzione di nodi del colmo con l'utilizzo di lastre non locali disposte con l'utilizzo di malta cementizia alla realizzazione di manti che, vediamo, si interpongono e in qualche modo si mascherano nell'insieme ma utilizzano appunto lastre di spessori più ridotti restituendo quindi una tessitura ma anche un prospetto, come dicevamo prima, del timpano che è differente rispetto a quelli tradizionali e qui vediamo molto bene il valore di elemento dissonante che viene assunto da questo raccordo con la parete verticale dell'edificio a fianco e sono elementi che poi paradossalmente diventano tanto più evidenti con il passare del tempo quindi con un'alterazione cromatica dei manti che in qualche modo denuncia ancora di più questi nodi non brillantemente risolti. elementi di gronda che abbiamo visto molto spesso non sono presenti nel caso di coperture storiche con ridotto sporto ma che invece altre volte diventano un elemento a sua volta connotante con la disposizione di vere e proprie mensole a sorreggere gronde che potevano anche essere realizzati in elementi linei e qui di nuovo in qualche modo questi tipi di soluzione denunciano una grande sapienza costruttiva e anche la possibilità di modificare con il corso delle stagioni la presenza di determinati elementi che in contesto di Alpi quindi ad alta quota per edifici che non vengono utilizzati se non nella bella stagione non sono necessari ma possono subire danno dalla presenza della neve quindi una soluzione di elementi di gronda che prevede la possibilità anche di rimozione dell'elemento lineo ma che invece ha una perfetta durabilità per quanto riguarda i suoi elementi di sostegno. La fotografia al centro in alto propone invece l'immagine dell'alternanza di capriate con catena e di capriate che presentano uno sporto verso l'esterno. Queste sono in realtà delle soluzioni ibride che vediamo rispondere però al requisito di infittire la presenza di elementi di supporto al manto appunto in contesti di alta quota dove sicuramente uno dei requisiti fondamentali è quello di rispondere al sopportare l'elevato carico della neve. Questi sono invece esiti che sarebbe auspicabile non vedere un po' in qualche modo una sintesi di una somma di tutti gli errori se così li possiamo definire che possono ai quali si può andare incontro quindi dalla presenza di mensole di legno che fuoriescono dalla struttura in elevazione e che quindi non sono protetti rispetto all'azione dell'acqua quindi esposti ad un ammaloramento che poi ne rende difficile comunque la sostituzione poiché significa rimuovere molto probabilmente l'intero manto di copertura. La presenza di un elemento di faldale che probabilmente maschera l'introduzione di un cosiddetto pacchetto di copertura deputato ad assolvere le funzioni di isolamento termico e l'impiego, l'utilizzo di lastre di minimo spessore posate con una pendenza quasi pari a quella della falda. Ora, alcuni approfondimenti condotti dal punto di vista della statica delle coperture che è una chiave di lettura alla quale siamo forse meno abituati poiché, come dicevamo, i manti attualmente vengono realizzati fissando opportunamente ciascun elemento tegulare alla struttura sottostante. Ma in realtà, pur avendo una massa, quindi un peso sicuramente notevole rispetto a un manto realizzato con lastre di piccolo spessore, il comportamento dei manti ossolani con forte ricoprimento delle lastre e loro distribuzione secondo un angolo di inclinazione minimo è comunque un comportamento differente rispetto a quello di un manto disposto secondo questi modi attuali di costruire. E poi la foto emblematica con la presenza dell'elemento di colmo che abbiamo visto essere assolutamente dissonante rispetto alla pratica storica. Queste immagini di dettaglio ci illustrano differenti esiti nell'utilizzo di lastre che possono avere geometrie analoghe ma essere ricavate da litotipi differenti. Quindi una consonanza parzialmente mantenuta nel caso di lastre che seppure estremamente regolari, ottenute per lavorate a spacco solo nelle facce esposte ma cercano comunque un compromesso molto diversa rispetto alla situazione al centro dove vediamo nuovamente la somma di un utilizzo di lastre, di materiali differenti, di ridotto spessore, posato secondo una inclinazione non coerente con il manto tradizionale e poi la predisposizione di un elemento di raccordo per il compluvio che probabilmente non tiene conto delle esigenze effettive di protezione quindi comunque un nodo probabilmente non risolto in modo eccellente. e poi le due immagini alla destra che sono emblematiche del rapporto tra lo spessore delle lastre storiche e nuovamente lo spessore delle lastre di nuovo utilizzo, lastre che non sono più ricavate per spacco ma che sono lastre interamente segate. queste immagini ci introducono a possibili diversi livelli di attenzione nell'utilizzo di lastre attuali quindi ci sono dei tentativi di mitigare l'effetto esteriore che deriva dall'utilizzo di lastre segate quindi a facce piane potremmo dire sia sul lato esposto che sul lato interno con esiti che però dal punto di vista del comportamento della copertura vedremo in chiusura possono non essere così coerenti con i requisiti tecnici. Siamo qui in Valle Anzasca quindi con una prevalenza di litotipi che definiamo beole quindi di beura e delle zone circostanti vediamo che in effetti la tessitura denuncia uno spessore delle lastre più ridotto analoga in qualche modo la risoluzione del nodo di gronda con la presenza di queste grandi lastre sorrette da una tavola linea che viene comunque protetta da un notevole esporto della lastra del primo corso. Ancora in Valle Anzasca, Vanzone con San Carlo queste immagini introducono a una chiave di lettura delle possibili modificazioni storiche ma anche della varietà storica di risolvere i prospetti del timpano con ancora una volta la valenza dello spessore delle lastre e l'utilizzo di materiali differenti per ottenere una chiusura almeno parziale dello spazio di sottotetto. Analogamente la presenza di elementi di collegamento diciamo di quasi un reiterale la presenza della catena in questa copertura che comunque presenta delle modificazioni in quanto si intravedono gli elementi di supporto della struttura in secondo piano e probabilmente c'è stata un'addizione di una sovrastruttura linea per adeguare il nuovo manto alla struttura preesistente. Al centro vediamo come anche in contesti di alta quota non si risparmi purtroppo nonostante la prevalenza di un contesto naturale che dovrebbe in qualche modo calmerare gli interventi poco coerenti l'introduzione di materiali, geometrie e nodi assolutamente non consonanti. Quello che è importante invece nella falda che si intravede a lato di questa addizione non coerente uno dei possibili modi di risoluzione della necessità di prevedere degli elementi ferma neve. Torniamo alle piode con esempi in Val di Vedro. Queste immagini restituiscono l'importanza di questi edifici nel connotare, come si è detto, paesaggi antropizzati con una cura nell'utilizzo di materiali disponibili anche molto poveri che vedremo si declina anche in particolari, in qualche modo inattesi nel percorrere questi luoghi. sempre in Val di Vedro, ecco, interventi di integrazione che in qualche modo possiamo dire non completamente consonanti ma comunque condotti con una certa maestria soprattutto nel mantenere quella irregolarità quella, diciamo, non rigore geometrico che permette di, tra l'altro, di attribuire al manto una capacità di adattamento a quelle che possono essere delle periodiche dilatazioni o comunque dei periodici movimenti della struttura che un manto di questo tipo riesce ad assecondare in modo molto più pertinente rispetto a manti realizzati con lastre squadrate e fissate puntualmente all'orditura di supporto. Queste immagini, sempre dalla Val di Vedro, introducono una possibile lettura e interpretazione di varietà di modi ricorrenti di disporre le orditure linee poiché, come abbiamo detto, è importante considerare come il sistema di copertura sia parte di un sistema più complesso che è quello dell'edificio e quindi connoti l'edificio e ne possa in qualche modo modificare in modo anche irreversibile l'inserimento nel paesaggio. questi schemi possono avere il valore di illustrare quelle possibili linee risolutive alle quali abbiamo accennato all'inizio e quindi nel suggerire modi consonanti nel proporre anche, per esempio, nuove chiusure di spazi di sottotetto che erano originariamente spazi coperti ma aperti. e qui in Val Bavona, come accennavo, ecco, dettagli costruttivi che denunciano questa capacità, questa cura ma anche questa, come dire, assoluto ottimizzare le risorse disponibili, quindi la copertura, il manto che diventa elemento di supporto e che in qualche modo si integra perfettamente nel contesto nel predisporre questo elemento lineo di protezione e di sostegno di eventuali prodotti che debbano essere posti all'aperto. Un accenno, poiché abbiamo detto che il progetto in corso è un progetto che si rivolge ad un contesto territoriale che comprende anche alcune vallate oltre il confine in ambito Ticino, quindi vediamo come in Val Bavona ci siano comunque caratteri che riconosciamo come in qualche modo consonanti con quelli del contesto ossolano illustrato precedentemente. Notiamo comunque delle influenze culturali che, per esempio, associano anche le costruzioni miste in legno e pietra e vedremo soprattutto ci sono delle differenze, per esempio, nella risoluzione con elementi linei singolari per i nodi, per esempio, di gronda. Questo ne è un esempio, quindi la necessità di portare all'esterno l'elemento di copertura con l'aggetto rispetto al timpano, ma al contempo la necessità di non interferire con la possibilità di accesso al locale di sottotetto che quindi introduce questo elemento di raccordo che è un ibrido tra un sistema capriata e un sistema con falsi puntoni. Questo è un elemento ricorrente che in qualche modo abbiamo visto in alcuni esempi di modificazioni storiche anche nel contesto, per così dire, italiano. E un'influenza comunque di cultura a Walser la vediamo anche nella risoluzione di questi nodi laterali, quindi in questa doppia fila, in questo doppio corso di elementi, di travi a legatura del, diciamo, del accoronamento della struttura in elevazione. E qui, sempre in Val Bavona, una più recente e più attuale interpretazione della soluzione degli elementi di ferma neve. Queste immagini ripropongono tessiture che abbiamo imparato a riconoscere, anche in questo caso elementi di timpano con il ricorrere dell'elemento esterno a sossegno della gronda, degli elementi di gronda. I materiali, abbiamo detto, che vengono utilizzati in questi contesti sono comunque sempre, appartengono agli etotipi degli ignais scistosi e quindi vediamo che, benché caratterizzati da, probabilmente da una maggiore percentuale di felspato, che quindi restituisce una colorazione più scura, ha comunque caratteri di geometria e di dimensioni analoghi a quelli del contesto che abbiamo già osservato in ambito italiano. Differente, invece, la soluzione del colmo, quindi con questi elementi disposti, forse con un singolo elemento, rispetto, invece, alle varianti più in uso in contesto solano, dove il colmo è un colmo non simmetrico, quindi il colmo ha, in contesto solano, ha per definizione una porzione aperta e invece una falda che in qualche modo si sovrappone a quella opposta. In questo caso, invece, vediamo un colmo che in qualche modo lega, in modo equivalente, i due lati della copertura. Ancora, in questo qui, l'osservazione sulla differente valenza dell'alterazione cromatica e della colonizzazione biologica a seconda del utilizzo di, quindi in funzione del dito tipo utilizzato. Queste sono alcune varianti che abbiamo visto, un po' una sorta di sintesi sulle varianti che abbiamo visto nella soluzione di nodi singolari della copertura, più tipiche della zona ossolana, senza la presenza di elementi linei che sporgono all'esterno dell'involucro edilizio, con progressive, diciamo, contaminazioni, fino, invece, alle soluzioni del Bellinzonese e della Val Bavona con una forte presenza di elementi linei in aggetto. Nella foto grande a destra vediamo una ripresa che propone la valenza significativa delle mensole litiche di sostegno delle gronde, in questo caso gronda sostituita con una gronda attuale in rame e quell'elemento disposto verticalmente che ritroviamo in numerosi contesti a protezione degli elementi linei in aggetto, elementi della grande orditura in aggetto. Quindi non è inusuale incorrere in accorgimenti che prevedono la protezione della parte esposta delle travi dei dormienti, parte esposta che rappresenta anche quella maggiormente suscettibile di marcia e scienza in virtù della disposizione delle fibre, quindi accorgimenti che divengono poi elementi connotanti, particolari contesti architettonici. Questi sono due esempi a confronto ma che abbiamo già diffusamente illustrato e qui in qualche modo una sintesi delle compromissioni, quindi dei contesti, del valore che assume la progressiva introduzione di elementi non consonanti. Compromissione che può essere diciamo di maggiore o minore entità e quindi più o meno reversibile denunciando una diversa sensibilità. A fronte di queste osservazioni la domanda che in qualche modo ci poniamo quando come progettisti o come proprietari dobbiamo affrontare un tema di recupero di un manto storico, in particolare di un manto in lastre di pietra, è comunque la falsa convinzione che questo manto abbia un costo superiore, non sia capace di assolvere alle funzioni storiche per le quali il manto è deputato, quindi la protezione dalle infiltrazioni prevalentemente e che tutto sommato l'utilizzo di lastre di produzione corrente possa offrire anche una maggiore stabilità del manto. Allora diciamo con un brevissimo accenno abbiamo condotto nel tempo degli approfondimenti sperimentali per verificare per confronto quindi in termini qualitativi il comportamento all'azione combinata della pioggia e del vento di manti di copertura in lastre di pietra realizzando un campione in scala reale che è stato collocato all'interno di un'apparecchiatura di prova secondo una metodologia codificata dalla Uni 8640 che costituisce una galleria del vento a ricircolo chiuso che permette di simulare una pioggia battente quella indicata in figura con il numero 4 una pioggia di ruscellamento pari ad una porzione di falda a monte per uno sviluppo di 5 metri e un vento radente in direzione opposta rispetto a quello di orditura della disposizione delle lastre qual era l'obiettivo? l'obiettivo era capire se modi tradizionali di lavorare le lastre quindi per esempio la cosiddetta sbarbatura in gergo della lastra cioè la lavorazione dei lembi esposti dia un contributo al comportamento della copertura stessa sono quindi state realizzate due tipi condotte due tipi di osservazione con la registrazione della da un lato con la registrazione della forza diciamo della pressione esercitata dal vento nei singoli punti di interesse punti che sono individuati proprio in corrispondenza del giunto di accostamento laterale quindi quello più sensibile all'azione combinata della pioggia e del vento radente simulando la condizione di lastre segate senza la lavorazione dei bordi esposti e in secondo luogo il comportamento delle lastre invece con lavorazione dei bordi esposti e la sperimentazione ha dato in qualche modo ragione ai modi storici di realizzare le coperture ovvero questi accorgimenti che molto spesso o tortocollo si impongono come direzione lavori a maestranze non sensibili perché ci sono altre maestranze le quali invece non è necessario suggerire questi accorgimenti svolgono una funzione direi fondamentale nel garantire una riduzione della rinforzata azione del vento rispetto ad infiltrazioni localizzate quindi con questo rispondiamo sì è bene lavorare i bordi esposti delle lastre non solo perché il vantaggio di queste osservazioni che permettono non solo di rilevare il comportamento all'esterno del manto ma anche la presenza di eventuali infiltrazioni da ragione del fatto che una lavorazione analoga dei bordi coperti della lastra permette di prevenire l'infiltrazione e il gocciolamento anche qualora vi sia una infiltrazione nella lastra intermedia analogamente sono state condotte delle diciamo delle sperimentazioni per quanto riguarda il comportamento rispetto alla stabilità di manti realizzati secondo con l'impiego di lastre lavorate a spacco naturale e anche in questo caso da prove di scorrimento eseguite con lastre sovrapponendo lastre con entrambe le facce lavorate a spacco naturale lastre con entrambe le facce segate e lastre con lastre esposta lavorata a spacco e lastra e faccia interna invece segata nuovamente hanno supportato l'ipotesi diciamo coerente con il modo tradizionale di lavorare le lastre tegulari ovvero il contributo dato dall'ingranamento delle singole lastre nel caso di una dislocazione provocata dallo scivolamento e dall'azione della neve questo per supportare ecco l'importanza del riconoscere per conservare quindi conservare non significa soltanto riprodurre un esteriore aspetto ma riconoscere la funzione che quella immagine stratificata nel tempo ha in qualche modo sostanziato e quindi per farciò è necessario che ci sia un dialogo rinnovato proprio con quelle maestranze esperte che sono depositari della tradizione cioè di quella tramandare nel dialogo la conoscenza costruttiva e la cultura soprattutto costruttiva e in questo mi sembra significativo concludere con questa immagine in valvigezza tocceno con il monumento all'ingegnoso muratore che quindi alle maestranze indispensabili come depositarie della cultura costruttiva tradizionale di per le 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 Grazie a tutti